La prima cosa che mi viene in mente è che è il locale in cui ho visto i primi film della mia vita. Prima di chiamarsi Mexico si chiamava Cinema Savona. Questa via Savona in cui è sito il Cinema Mexico è una via super popolare. La Milano Operaia, qui c'era L'Ansaldo, qui c'era la Riva Calzoni. Era una zona popolare, anche una zona un po' tosta. Ma il pubblico di allora era quello che commentava i film, quello che interlocuiva con le pellicole. Il Messico quando l'ho preso 30 anni fa, fino ai anni 70, era uno dei tanti locali che erano parecchio in sofferenza e che con l'arrivo delle televisioni private chiudevano. Alcuni si sono convertiti nella luce rossa, alcuni hanno chiuso. Mi sono proposto per l'affitto del locale, sconsigliato da tutti gli amici, conoscenti, gente del cinema, perché quei locali ormai erano destinati alla chiusura. Io così, forse per natura sono uno che va un po' controcorrente. Avevo un'idea di come gestire il Messico e dovevo cambiare qualcosa. E ho in mente che a Milano non esisteva un locale che facesse film musicale o di carattere musicale continuativo e io ho provato questo.